Ciao a tutti, io sono Valentina e in questo video finalmente vi voglio far vedere tutti i miei acquisti per i saldi. Non sono tantissimi, ho comprato sia delle cose di make up che dei vestiti, una già ce l'ho indosso e niente iniziamo subito. Allora i primi acquisti che vi voglio far vedere sono quelli di Stradivarius, infatti tutti i vestiti li ho presi lì. Devo dire la verità, in realtà non ero tanto sicura se comprare o meno, poi effettivamente non avevo dei capi nuovi e quindi ho pensato di approfittare dei saldi, visto che comunque c'erano le cose in scolto. Anche adesso comunque ci sono i saldi quindi ancora potete andare a prendere magari qualche cosa che vi interessa, però devo dire che le cose finiscono veramente in pochissimo tempo, infatti ho preso le cose forse il giorno stesso in cui sono partiti i saldi. Non sono andata al negozio perché al negozio ormai evito, infatti compro quasi tutto online magari vedo gli articoli, le cose che voglio qualche giorno prima così da farmi un'idea e se poi effettivamente quelle cose che ho visto le ritrovo in sconto magari me le prendo. E niente quindi iniziamo e la prima cosa appunto è questo maglioncino qui. Devo dire che io non amo tantissimo l'opardato, tutto questo trend di quest'anno, però non avevo niente e mia madre l'aveva provato questo. Mi ha detto guarda che alla fine è carino, è comodo, sta bene indosso e mi ha detto guarda, valutalo perché comunque stava scontato. I prezzi vi li segno magari da qualche parte qui nel video per non sbagliare perché magari se no dopo vado un po' a memoria e mi dimentico e non mi ricordo male. E niente, devo dire la verità che è abbastanza comodo, largo, pensavo fosse un po' più attillato e invece molto comodo, non troppo lungo, quindi mi è piaciuto, mi è piaciuto abbastanza ed è appunto di Stradivarius. Naturalmente vi faccio vedere anche come mi sta indosso perché vi metto anche la clip dove indosso i vari capi. Molto morbido, la maglia appunto sul braccio è fatta in questa maniera qui. Boh, lo trovo comunque molto carino, non troppo eccessivo, secondo me stava bene, forse perché è un po' mixato con tutto questo nero, insomma, e sapete che il nero è il mio colore, quindi non lo so, questo mi è piaciuto tantissimo. Poi sempre sul tema leopardato, ho deciso di prendere la sciarpa, cioè le sciarpe comunque ce ne ho due contate e quindi questa è la terza nel mio armadio, io praticamente ho tutto contato, proprio per non ritrovarmi con troppe cose, infatti negli anni diciamo che ho cambiato molto, diciamo mentalità, perché tendenzialmente in precedenza compravo veramente tantissime cose, neanche mi ricordavo di averle nell'armadio, mentre adesso non so quantificare addirittura le cose che ho. E niente, quindi questa è la terza sciarpa che ho nell'armadio, l'ho trovata carina perché è sempre comunque leopardata, stranamente, però insomma, se magari sono vestita tutta di nero o col cappotto, può smorzare un pochettino tutto il nero, comunque è carino per staccare un attimino, poi c'è questo rosa che secondo me ci sta molto bene ed è molto carina. Questo a prezzo pieno, ve lo posso dire con sicurezza, costava 17,99€ e vabbè qua vi scriverò quanto l'ho pagata in saldo, ma comunque insomma molto molto di meno. E questa è piaciuta anche a mia madre, infatti quando le ho detto che era in saldo l'ha presa anche lei, quindi ci dobbiamo lasciare un po' uguale. Una cosa che ho preso, pensavo fosse diversa, perché vabbè sono stata io che ho comprato veloce, però a me tendenzialmente mi piacciono molto queste tutine nere, molto semplici, basic, questa c'è anche la zampa abbastanza larga, poi adesso comunque la vedrete indossata, ed è una M, ah tutto quello che ho preso comunque è una M, perché ho sempre paura di acquistare online e magari prendo qualcosa troppo stretto. E questa qui costava 19,99€. Io praticamente ho una vecchissima tuta, non so se era di Stradivarius o HM, però più sull'estimo. Questa diciamo che non è, cioè è fatta a canotta, però è un tipo un materiale più pesante rispetto a quello che ho io e naturalmente non è invernale. Vabbè questa qui comunque l'ho presa per sostituire una vecchia tutina che ho che ha tantissimi anni quindi quella sicuramente la darò via e insomma questa la sostituirà. E la trovo davvero comoda e carina. Io insomma sono veramente fissato con queste tutine e ho deciso insomma di prenderne una nuova proprio per cambiare quella che veramente ormai è super arrivata perché è da tantissimo tempo che ce l'ho. E niente, quindi c'è già la cintina comunque qui, poi insomma potete... non si staccano, poi insomma magari mi inventerò un outfit carino da poter utilizzare con questa tutina se magari avete anche degli spunti o delle idee su dei profili da seguire che magari danno dei spunti carini sugli outfit scrivetemeli che io sono sempre alla ricerca. E niente, quindi questa è la tutina. Un'altra cosa che ho preso fondamentale che secondo me ai saldi bisogna sempre prendere è il cappotto. Ho preso un cappotto che ho guardato un po' così ho detto boh mi piacerà effettivamente, poi magari mi arriva e non so se effettivamente mi piace mi sembrava davvero carino. Mi piace molto, ho pagato comunque molto di meno e secondo me appunto durante i saldi sono degli acquisti da fare, degli investimenti diciamo da fare sui cappotti infatti solitamente quando ci sono i saldi li prendo sempre. Ho preso sempre una M che devo dire che mi piace tanto come mi sta indosso, è comodo, è caldo e quindi insomma sono contenta di averlo preso ha tutta questa pelliccetta insomma quindi è abbastanza caldino e niente non so se lo riuscite a trovare ancora magari vi dico proprio il nome del capo così potete, di ogni capo così potete ritrovarlo se magari vi piace e andarlo a cercare sul sito e se ancora è in saldo magari prenderlo. E questi sono tutti i vestiti che ho acquistato con i saldi. Poi passiamo al reparto trucchi dove naturalmente io non potevo mancare ero indecisa però poi alla fine ho deciso di acquistare qualcosa soprattutto due cose in particolare perché l'anno scorso mi erano sfuggite ovvero ho preso due palette di Kat Von D questa è la shade più light cream contour mentre questa è la shade light glimmer high io volevo in realtà quella non shimmer però quella non ho fatto in tempo perché proprio al dito più veloce non ce l'ho fatta però devo dire che è bellissima anche questa qui shimmer ve la faccio vedere oltre il packaging che è davvero bellissimo di Kat Von D la qualità degli ombretti è ottima questa già l'ho provata perché naturalmente non potevo aspettare e gli ombretti sono questi ma sono veramente super validi super buoni questi due sono due bianchi diciamo glitterati però sono diversi perché questo è più tendente a un doratino mentre questo è più tendente a un bianco rosa con dei riflessi sul rosa la palette è super valida insomma ci sono tutti questa questa gramma cromatica naturalmente è per dei trucchi insomma non troppo esagerati anche se comunque è shimmer quindi un po' più serale rispetto all'altra però io insomma lo utilizzo anche di giorno perché insomma la trovo abbastanza portabile ha questo specchio molto grande che mi piace tantissimo e niente insomma la qualità delle palette di Kat Von D è veramente ottima poi ho preso anche questa qui per fare il contouring che mi piace tanto c'è sempre la versione non in crema mentre questa è la versione in crema però mi sono accontentata anche in questo caso e appunto ci sono le sfumature dal più chiara al più scuro per correggere le varie discromie insomma la trovo davvero molto molto utile molto carina facile da sfumare l'ho provata un paio di volte quindi ancora non vi posso dire esattamente come mi trovo però insomma le prime due volte che l'ho utilizzata mi sono trovata abbastanza bene non ho trovato difficoltà nel sfumare il prodotto quindi per il momento mi sta piacendo e niente quindi questi due sono i principali acquisti che ho fatto che volevo fare appunto l'anno scorso ma non ho fatto in tempo perché è andato tutto esaurito un'altra cosa che ho preso è una matita per le sopracciglia ho preso questa qui di Urban Decay e il colore è Warm Brown e sono quelle matite automatiche davvero precise cioè nel senso con la punta veramente molto molto fina è fatta così come praticamente tutte le matite automatiche l'ho utilizzata forse una volta quindi anche questa non so per la durata e tutto quanto dall'altra parte ha lo spazzolino solito devo dire che come tratto mi piace molto riesco a fare i peletti molto precisi quindi trovandola comunque se non sbaglio sui 13 euro ho pensato di acquistarla perché appunto mi è assombrata una buona offerta e poi comunque mi serviva una matita per le sopracciglia quindi sono andata su una cosa che comunque mi serviva poi un'altra cosa che ho acquistato è queste liner questo qui di Benefit che è il Push Up Liner allora su questo io mi ricordo che l'avevo acquistato tanto tempo fa in versione nera questo qua è il blu e non mi ricordo effettivamente cosa pensassi di questo prodotto e ho deciso di riprenderlo perché comunque un eyeliner blu non ce l'avevo era super scontato quindi ho detto vabbè proviamo praticamente questo esce il prodotto qui una cosa che ho notato subito è che si spreca parecchio il prodotto perché ogni volta che girate si utilizzate il prodotto però poi continua a fuoriuscire infatti eccolo qua poi naturalmente se non lo riutilizzate subito probabilmente si seccherà però non lo so questo qua poi magari vi aggiornerò su questo qui perché appunto l'ho utilizzato due volte e appunto dovrebbe essere più semplice da utilizzare perché ha questa forma tagliata qui voi dovete applicare il prodotto così e dovrebbe semplificare il tutto non so effettivamente perché adesso l'ho provato una volta sola quindi lo riproverò ho deciso di comprarlo perché comunque non avevo un eyeliner blu e insomma ero curiosa di riprovarlo all'interno di questo gel liner ci sono 1,3 grammi e niente vedremo sicuramente vi farò sapere altra cosa che ho preso perché blush non ne ho tantissimi e l'ho trovato questo qui in offerta che è di Too Faced ed è il Peach My Cheeks il colore che ho scelto è Peach Dream e devo dire che la confezione mi piace tantissimo guarda quanto è carina questo è anche comodo da portare dietro praticamente è questo blush qui ed è un blush che è abbastanza cremoso quindi potete applicarlo anche con le dita è quello che ho utilizzato oggi l'ho applicato oggi e mi sono trovata bene è abbastanza scrivente quindi non è che resta insomma si nota adesso devo fare un po' di prove per vedere se si uniforma bene al fondotinta o se mi fa delle chiazze, delle macchie però mi piace molto l'idea perché è piccolino insomma è facile da portare dietro mi piace il fatto che c'è lo specchietto perché questo magari me lo porto direttamente in borsa come se anche specchietto per i vari ritocchi e mi piace tantissimo la confezione questo blush è da 12,5 grammi e appunto è di Too Faced e niente lo trovo davvero super carino e niente ragazze e ragazzi questi erano tutti i miei acquisti per i saldi io spero che vi sia piaciuto il video fatemi sapere che cosa avete comprato voi per i saldi quali sono le cose che ho comprato che vi sono piaciute di più scrivendomele in un commento naturalmente vi ricordo come sempre che ho una pagina Facebook e una pagina Instagram che vi metto qua sopra vi metto comunque in descrizione così mi potete seguire con tutte le mie avventure quotidiane e se vi è piaciuto questo video non dimenticate come sempre di lasciarmi un like di iscrivervi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao ragazze e ciao ragazzi ciao 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 ciao